No, non si è fermata alle 18 circa del 22 aprile 2018, la storia d'amore fra Vincenzo Modesto e Dilbitonto. Non si è fermata quando ha smesso di battersi con la mano sul petto all'altezza del cuore del leone, quando ha calcato per l'ultima volta l'erba del città degli olivi, o quando, accompagnato da occhi che a stento, riuscivano a trattenere lacrime ed elusione, ha fatto il ritorno verso casa, incognandosi nei vicoli del centro storico, là dove tutto ha avuto inizio. In quelle stradine strette, alcune senza uscita e con i massi che rendono instabili ogni passo, un ragazzino dirba ai propri compagni come fossero sagome statuarie, sterza quando l'aggerezza e la resta di un osciatore e le curve di quei vicoli, e poi scarica, nell'arco circoscritto di porte costruite alla meno peggio, bordate di destro, che non lasciano scampo e malcapitati i portieri. Dopodiché si batte con la mano sul petto ed in faccia gli esclama, io sono Vincenzo Modesto, porto la maglia numero 7 e un domani sarò il capitano del bitonto. Nessuno sembra crederli, alcuni lo deridono, altri ancora lo sveffeggiano fino a quando? Il nonugioso pomeriggio del 2007, contro la peribus unitis, quel ragazzino lanciato in campo da mister Giacomo Zunico stupisce tutti, mette a segno la sua prima rete fra i big e dal definitivo via la sua stupenda storia d'amore con quella maglia in nero-verde. Una storia fatta di alte e bassi, di giochi e dolori, di inferno e paradiso. Una storia fatta di trofei come la Coppa Italia, contato a riguarda cineteca e dedica speciali in quel pomeriggio di Rutigliano, una storia fatta di parole da consegnare davanti ai microfoni, quando tutto girava per il verso storto e quasi come le sentisse un obbligo, era sempre prima a metterci la faccia. Non ha mai luso nessuno, Vincenzo Modesto. Se c'era da dire in faccia una verità scomoda e riportare tutta la realtà, lo faceva senza troppi fronzoli e poi, alle parole, faceva valere la domenica la legge del campo. Quel campo che lo ha reso lo dei capitani più amati di sempre nella storia del bitonto, tanto da farci pensare che no, la sua storia d'amore non si è interrotta in quel pomeriggio d'aprile alle 18 circa, ma che forse batterà per sempre sotto quella mano appoggiata all'altezza del cuore, sul viso di quel leone.